Rimane in carcere il trentenne del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una 49enne peruviana all'alba di lunedì nella centralissima piazzale Matteotti. Questa mattina nel Tribunale di Pesero il Gip Giacomo Gasparini ha convalidato l'arresto per i gravi indizi di colpevolezza che vanno dalla flagranza di reato al pericolo di reiterazione. A nostro avviso non ci sono le esigenze cautelare o quantomeno possono essere delle esigenze ridotte rispetto a quello che ha individuato il giudice e quindi pensavamo ad una misura meno restrittiva e quindi gli arresti domiciliari ad esempio. Il bengalese, incensurato, regolare sul territorio e impiegato come aiuto cuoco, non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma aiutato da un interprete ha voluto descrivere al giudice uno scenario diverso rispetto a quello del presunto stupro. Lo scenario di un incontro casuale fra l'uomo e la donna con quest'ultima che avrebbe preaposto un rapporto sessuale concordato su pagamento di 20 euro per poi tirarsi indietro dopo aver appurato lo stato di alterazione alcolica dell'uomo. Lui dice di aver pagato e successivamente la signora avrebbe cambiato idea e da lì sarebbe nata una questione, un contraddittorio parlando a lungo prima su una panchina poi in piedi in piazza dei Matteotti con il soggetto indagato che avrebbe cercato quindi di riprendere i suoi soldi. Secondo la difesa le grida della donna che hanno portato alla chiamata ai carabinieri sarebbero iniziate per la concitazione di questa presunta mancata restituzione del denaro al quale è seguito il trascinamento della donna dietro al chiosco. E lui probabilmente per zittirla perché spaventato aveva anche bevuto molto così ci ha riferito e comunque l'ha portata in un luogo più appartato cercando appunto di riprendere i suoi soldi chiaramente insomma sbagliando. La disposizione della custodia in carcere arriva dopo l'acquisizione dei video che secondo l'avvocato Mariella mostrerebbero solo le fasi concitate precedenti alla presunta violenza. Mostrano che lui si siede vicino a lei che parlano, confabulano a lungo per qualche minuto che poi la signora si alza, che lui la segue e continuano a parlarsi. Si vede che gli animi cominciano un po' a scaldarsi perché a un certo punto lei come dire si gira quasi per andarsene e lui la prende per una spalla e la trascina verso di sé e continuano a parlare finché poi la porta per mano, per un braccio verso la panchina, si siede la signora sulla panchina e lui ancora davanti che continua a parlargli e fruga, sembra che frughi qualcosa. Questo io vedo e poi in realtà il resto non si vede. La flagranza di reato appurata dai carabinieri trovando la coppia seminuda dietro al chiosco sarebbe arrivata laddove non è arrivato l'occhio delle telecamere, mentre nei carabinieri né la videosorveglianza hanno appurato la presenza di un coltello con il quale la donna accusato di essere minacciata.